SON LONTAN DE TI TRIESTE MIA Le lacrime mi corrizzo per il viso e dico tra di mie, tra di mie, che non esiste un altro paradiso più splendido da ti. Un buso in me con trada, un vecchio fogolè, un sial che pica in strada, due rose in un pittè. In alto quattro nuvole, adesso d'un fia de mar, c'è il quadro più magnifico che mai se può sognare. E carissimi amici, carissimi amiche, salve a tutti, buona giornata. Per il caso di Liliana Resinovic credo che alle 18 faremo una live, non ve lo confermo ancora perché non so se riuscirò ad avere assistenza tecnica necessaria, però ve ne darò conferma più tardi. Quindi alle 18 ci dovrebbe stare questa live che ritengo molto importante per precisare alcuni aspetti. Però voglio soltanto dire stamattina che è stata grande l'eco di ciò che è successo, insomma questo triste spettacolo a cui si è assistito a questo grado. In cui questa sorta di alleanza veramente è surreale perché si dice adesso ci mettiamo insieme a cercare cosa? A cercare giustizia, a cercare la verità, a cercare la verità per Liliana. Ma quale verità? E poi cosa si fa? Si sostituisce alla procura. Cioè praticamente adesso abbiamo una serie di persone che magari si mettono insieme per sostituire la procura della Repubblica di Trieste a cercare la verità. Come se si volesse dire voi non siete in grado di cercare la verità, adesso noi, seppur portatori di verità diverse, cerchiamo la verità. E quindi facciamo indagini, ecco qualcosa di veramente surreale, un minestrone potrei dire veramente da non commentare secondo me. Quindi secondo me da questa stretta di mano nasce soltanto la certificazione dell'archiviazione di questo caso che già era inevitabile di per sé, lo è diventato ancora di più. Vedete come è possibile pensare che i portatori di due verità siano insieme per un qualcosa. La verità di Serpin, sappiamo qual è, ha confezionato questa inventata storia d'amore per cui questa donna doveva andare a vivere da lui tanto felice, tanto felice. Ma penso che questa storia qui non esista, come la verità di Sebastiano è una verità confezionata anche da lui strada facendo per cercare di non avere problemi. Perché credo che l'unico aspetto che interessa a Sebastiano è quello di non avere problemi. E allora mentre all'inizio accusava questo pseudo rivale di non stare bene con la testa, chissà quali segreti nascondesse, chissà quali cose lusche, ecco, nascondesse invece adesso ci si stringe la mano, quasi un abbraccio diciamo, perché dice sì ma in fondo si trattava di un amore magari poi diciamo non disposto appena un amore che uno credeva una cosa e l'altro invece magari non è che si faceva tanto, chissà fosse qualcosa di soft, diciamo così. E questo va bene perché va a giustificare i cosiddetti imputti emotivi. Quindi, poi ci sono anche altri portatori di verità, non ci fermiamo soltanto a loro due. Ci sono ad esempio gli amici, il costoro che si sono innamorati di una teoria, anche tanti opinionisti, che ripetono, diciamo proprio, come si dice, a pappagallo la teoria che la donna, chissà come, incontra qualcuno di conosciuto, di cui si fida, entra in macchina e ha questa discussione con questo qualcuno, subisce un ceffone e poi si sente male, le viene lo scompenso cardiaco e poi viene, ecco, a un certo punto, non è che si sente male e viene chiamato l'ambulanza oppure la si porta da un medico, no, si sente male e quindi la si porta a nascondere da qualche parte, al freddo, il frigorifero, le grotte, insomma, le parti molto fredde, perché non si sa, quindi uno c'è una discussione, il ceffone, il malore, il malore conseguente, ecco, e poi si porta al freddo e si distribuisce dopo 20 giorni. Poi, per non parlare di coloro che insistono che questa morta è sopravvenuta per l'aziesto cardiaco, ecco, è come se tutte le morti di questo mondo non avvenissero per l'aziesto cardiaco, che è come scoprire l'acqua calda, voglio dire. Quindi, il problema è che tutta questa teoria, tutte queste cose qui, stanno per essere clamorosamente smentite, come già sono state smentite dalla prima autopsia, con la morte il 2-3 di gennaio, quindi non esiste il freddo, non esiste il congelamento, non esiste che è stata malmenata, non esiste niente di tutto ciò. Esiste una morte risalente al circa il 3 di gennaio e quindi questo è importante, è importante perché questa morte così, in questo modo, del 2-3 di gennaio, è ovvio dal mio punto di vista che debba essere stata provocata, insomma, nella sua genesi da un'organizzazione. Questa, a mio modo di vedere, Liliana non può, così, in quelle condizioni di anonimato, essersi allontanata per nascondersi in qualche appartamentino, così, di Trieste, a fare la bella vita per 20 giorni, prima di decidersi a suicidarsi, no. Semplicemente, a mio modo di vedere, si era ingrappato in qualche giro pericoloso, non per sua volontà, magari per inesperienza, per sfortuna, perché indotto in qualche modo ed era proprio, è come un sequestra, come una prigionia, dalla quale poi è finita male, perché, a mio modo di vedere, la stessa restituzione del corpo in quelle condizioni, in due sacchi neri, per me è emblematica, e non escludo che qualcuno sapesse, qualcuno sapesse che il corpo sarebbe stato restituito in quella zona lì, perché c'era troppa fibrillazione. Comunque, ne vorrei parlare, appunto, in questa live, che è prevista per le ore 18, vi darò conferma se riusciremo a farla. Quello che volevo domandare, cioè, mi domando perlomeno, se anche i parenti così accaniti contro questo marito Sebastiano, se adesso sono d'accordo, anche loro, su questa stretta di mano, se va bene così per tutti quanti, perché, vedete, io di solito sono sempre d'accordo con le strette di mano, con una sorta di pace raggiunta fra rivali, però, vedete, la stretta di mano è bella, fra due o più rivali, quando sono rivali riconosciuti, cioè, quando si fa qualcosa proprio mettendoci la faccia, cioè, uno scontro sportivo, una rivalità sportiva, in cui ci si confronta, come pugile, ecco, che hanno delle regole, le stesse regole, come nel calcio, come in tutti gli sport, e dopo, ecco, dopo, alla fine di questa partita, ci si abbraccia pure, perché sono rivali cosiddetti riconosciuti. In questo caso qui, non sono rivali riconosciuti, e mi dispiace, mi dispiace che si agisca in questo modo, mi dispiace, perché vorrei proprio sapere, vorrei vedere in questi giorni delle interviste di questi parenti e amici, se anche loro sono allineati per questa stretta di mano. Invece, quella stretta di mano, secondo me, è il sigillo veramente della fine di ogni speranza di verità. Per me, per me, è incredibile che, soprattutto Sebastiano, abbia in tal modo riconosciuto la legittimità di una persona, abbia riconosciuto la legittimità, il zulo, in fondo anche la storia d'amore. Ed è incredibile che tutto ciò sia accaduto, perché io sento che ciò non è la verità, ma lo dicono tanti piccoli particolari non approfonditi. Lo dice, ad esempio, anche la famosa telefonata del 13 dicembre, siamo al giorno prima, al giorno prima della scomparsa. Quando una Liliana De Sinovic, che mai in vita sua aveva fatto telefonate del genere, fa una telefonata di 16 minuti, andando avanti e indietro, avanti e indietro, percorrendo circa 55 metri, dopo di che il numero di insubbrica, Claudio Serpin, viene bloccato. Viene bloccato. Poi Liliana De Sinovic, con il suo cellulare, cerca come cancellare definitivamente la lista dei numeri bloccati e cancella tutto. In tal modo, è come se li sbloccassi, in effetti, e li sblocca. Quindi la mattina seguente, il contatto di Claudio Serpin compare senza più il nome, avviene la telefonata alle 8.22 tramite Whatsapp, in cui secondo me non c'è wind, non c'è vengo piuttate, sono secondo me tutte invenzioni, anche quelle. C'è sicuramente il fatto di ribadire la volontà di dover andare a questo appuntamento pericoloso, come sappiamo, e dopodiché anche questa telefonata viene cancellata da Liliana. Questa è la ricostruzione più ragionevole. Poi lei va incontro al suo destino, certamente non per andare alla Wind, non per andare da Serpini che aveva cancellato, perché in qualche modo, in qualche modo non so come, lo riteneva responsabile di qualcosa, direttamente o indirettamente lo riteneva responsabile di qualcosa, perché cancella lui. Quindi, mentre, diciamo, il giorno prima comunque era stato con il marito ed è andato in sauna e non ce l'aveva tanto con il marito quanto con Serpino. Questo emerge in tutta evidenza che poi il marito abbia avuto le sue convenienze a tacere su quello che sospetta quantomeno. Secondo me anche lui nasconde il fatto di avere dei sospetti. Adesso dice, vabbè, chiudiamo per imputare motivo. diciamo che per me se non fosse questa l'ipotesi, se non fosse questa l'ipotesi come dico io, allora davvero si potrebbe pensare a un suicidio. Come alternativa a questa ipotesi c'è davvero da pensare a un suicidio della donna, perché è una donna vissuta con dei valori, con molta riservatezza, diciamo al di là di quello che si poteva fare o meno però lei sempre ha avuto un'immagine, ecco, ha sempre conservato quella sua immagine sobria anche per chi l'ha conosciuta, anche sull'ambiente di lavoro, sempre questa immagine distinta, sobria, riservata. e quindi davvero c'è da credere che se non fosse come dico io che è molto probabile allora veramente si potrebbe pensare al suicidio perché vedo oggi una donna tradita da morta e figuriamoci come doveva essere da viva. C'è una donna non capita oggi che non c'è più, figuriamoci se poteva essere capita da viva. quindi non amata sostanzialmente adesso nella memoria e secondo me non amata nemmeno da viva. Quindi vedo oggi emerge quasi una donna che era amata più per la sua disponibilità, per la sua generosità, per i soldi che dava. Oppure una donna che era oggetto di foto, era oggetto di compagnia, e mai che si vedesse oltre la sua umanità, oltre la sua generosità. Quindi penso proprio che alla fine una donna che si vede sola e magari in un momento di difficoltà dove poteva essere capitata in qualche giro in maniera involontaria magari vede il deserto intorno a sé, si gira e non vede nessuno alle sue spalle, viene lasciata secondo me sola ad affrontare dei problemi magari più grandi di lei. Quindi magari credo che sia un bene che finisca qui questa storia e che ognuno ritorna alla propria vita, ognuno ritorni nel suo ruolo, come dice una famosa frase che spesso si legge quando cadono tutte le maschere si legge che il tempo come si dice il tempo mette ognuno al proprio posto quindi ogni regina torna sul suo trono e ogni pagliaccio torna nel proprio circo. Questa è la conclusione e la riflessione di oggi vedremo se alle ore 18 faremo live sul canale se non lo faremo oggi alle 18 vi farò l'annuncio di spostamento quindi vi ringrazio sempre perché mi seguite mi seguite in tantissimi ieri il video su su dico meglio su Liliana su tutti i social ha oltrepassato le 30.000 visualizzazioni quindi non posso fare altro che ringraziarvi niente ci vediamo qui per oggi vi auguro una buona domenica speriamo di sentirci più tardi un abbraccio a tutti guante voi a tutti oltrepassato a tutti